Siamo soddisfatti intanto dei risultati, un 25% in più di campioni per il vino e un 20% in più di presenza di aziende. Abbiamo quest'anno 34 premi suddivisi per vino, olio e distillati. Saranno presenti la stampa di settore, sia nazionale che regionale, e questo per noi è un motivo d'orgoglio perché il premio è sempre più presente sull'informazione nell'ambito delle riviste di settore. Da direttore di AG News, qual è il segreto per farla durare questa manifestazione 10 anni? Forse perché abbiamo iniziato per gioco e tanta passione. Secondo noi il packaging è veramente uno strumento fondamentale per la vendita di un prodotto. Le aziende sempre più si sono avvicinate a noi. Ricordo le prime edizioni, praticamente le bottiglie d'olio erano inguardabili. Adesso ci sono delle bottiglie bellissime. In particolare pure abbiamo la presenza straniera, spagnoli e greci, che ci stanno seguendo per l'olio e che ogni anno puntualmente partecipano. Quest'anno le aziende sono diverse rispetto allo scorso anno. Più se ne parla, più aziende si avvicinano. Poi quest'anno c'è una presenza di distillerie davvero importanti, da Mazzadro a Mazzetti d'Altavilla. Domenis sono le maggiori distillerie d'Italia, quindi sarà difficile poi il giorno 9 dare la super etichetta d'oro, sia per l'olio sia per il vino, ancora di più per i distillati. Vedo questo premio come se fosse per lei un figlio, un figlio che lo ha allevato, cresciuto da 10 anni fino a qua. Non dimentichiamo che è sempre un prodotto organizzato dall'istituto, dal polo didattico Mattarella, di Castellammare e Alcamo, però lei con tanti dirigenti scolastici che si sono intervallati, lei rimane sempre l'anima di questo premio. Ce lo siamo inventati tantissimi anni fa, 10 anni fa. I dirigenti scolastici che si sono succeduti sono stati sempre sensibili a ripetere l'esperienza. Senza di loro, senza l'appoggio della scuola, senza l'appoggio degli sponsor e senza l'appoggio del comune non andiamo da nessuna parte. La scuola rappresenta il fondamentale per il sostegno che ci dà e quindi ho conto e spero che ci saranno altre edizioni sempre con delle novità. L'ho fatto nascere, l'abbiamo proposto all'allora dirigente scolastico e da allora è andata avanti. Non dico da solo, però cammina bene. Giorno 9 ci sarà la suspense perché sarà attribuita la super etichetta d'oro che è una per categoria. Noi poi seguiamo le aziende per l'intero anno, nel senso che come giornale, come IG News, per tutte le iniziative che loro fanno. E per molte aziende ha rappresentato pure uno spazio maggiore nelle vendite dei prodotti.